Il resto della formazione grosso modo ce l'ho in testa, ora aspetto la rifinitura che inizieremo fra qualche minuto. Mi dà la possibilità di avere un po' più di esperienza, un po' più di fisicità e comunque giocatori nel proprio ruolo che hanno la possibilità di potersi comunque esprimere al meglio. Soprattutto mi dà la possibilità di poter, secondo me, mettere in difficoltà i nostri avversari perché c'è la possibilità di poter andare a lavorare in un certo modo in alcune zone del campo con le caratteristiche di quei giocatori che magari ho a disposizione e che cercherò di sfruttare al meglio per le loro qualità. Però i numeri a questo punto della stagione ti danno anche delle indicazioni importanti. Il fatto che fuori casa abbia un'imbattibilità lunga da così tanto tempo è anche a testimonianza del fatto che per caratteristiche, per struttura, è una squadra che quando ha la possibilità di difendersi bassa è sicuramente difficile da scardinare, è difficile per fisicità. Ora è vero che perderà Borghese per infortunio, non sappiamo se riuscirà a recuperare l'Ambrughi all'ultimo tuffo, però è un avversario che anche per il sistema di gioco, visto che spesso ha utilizzato il 5-3-2, quando riesce a difendersi con otto giocatori sotto la linea della palla e va a chiudere le linee centrali, ti lascia solamente le corsie esterne, ha dentro un'area di rigore, tutta gente strutturata, importante, è complicato riuscire poi dopo a impensierire un portiere comunque importante per la categoria come Mazzoni. Non credo che sia un caso, bisogna essere bravi ad analizzare questi aspetti e bisogna essere bravi a non aver fretta in una gara dove se la volessimo vincere solo ed esclusivamente con l'arrembaggio e la forza della disperazione rischieremmo di esaltare quelle che sono le caratteristiche del nostro avversario, cosa che sinceramente non vorrei fare. Lunedì ha assistito anche alla conferenza del Presidente Ferretti, le chiedo di commentare anche quello che ha detto la curva Minghelli ieri, fiducia cancellata verso il Presidente, sostegno totale alla squadra, che effetto le hanno fatto quelle righe? A me mi piacerebbe commentare solamente la seconda parte, la prima, quando si ascolta e si esprime poi dopo il proprio parere, il proprio pensiero, credo che vada sempre rispettato. La seconda parte mi fa enormemente piacere, ma questo ce l'hanno sempre dimostrato, a maggior ragione nell'ultimo periodo in cui la squadra nell'ultimo mese ha raccolto un po' pochino. L'avevo detto anche prima della gara di Roma, ve l'ho riconfermato appena la partita è finita e il dispiacere più grande è stato quello, al di là di non aver portato altri due punti in classifica, è stato quello anche di non aver ripagato in un momento delicato della stagione tutta la vicinanza e tutto l'affetto dei nostri tifosi che stanno riversando verso questi ragazzi, verso questo gruppo, verso questi colori che amano in maniera viscerale e che vogliamo fare in modo che siano, come lo dissi prima del derby di Siena, che siano orgogliosi della squadra perché ci teniamo anche noi a ripagarli di questo affetto.